Buongiorno a tutti e benvenuti in Casa Facile Felice. Oggi prepariamo i garganelli al pesce spada. Per tre porzioni circa 250 g di pasta garganelli, quattro fette di pomodori sott'olio, 120 g di pesce spada a cubetti, un cucchiaio colmo di pesto al basilico, una noce di burro, sale, prezzemolo, olio evo e pepe a piacere. Proseguiremo in questo modo. Tagliate i pomodori sott'olio a pezzettini e metteteli in una padella capiente dove salterete anche la pasta. Aggiungete il pesto e lasciate andare per una trentina di secondi. A fuoco molto lento. Mentre la salsetta si scioglie, mettete la pentola con acqua salata e cuocete la pasta. Cuocetela al dente in modo da poterla poi saltare in padella. Scolate la pasta al dente e conservate una tazza di brodo di cottura. Versate la pasta nella padella della salsetta e mescolate. Aggiungete un po' di acqua di cottura della pasta e cominciate ad aggiungere tutti gli altri ingredienti. Il pesce spada tagliato a dadini, la noce di burro e il pepe se vi piace. Servite caldo decorando con prezzemolo o basilico, quello che avete in casa. Io avevo il prezzemolo e ho usato quello. Per altre preparazioni vi aspettiamo su questo canale. Arrivederci alla prossima ricetta.